È il momento delle confidenze? No, no. Coraggio, la tua più grande trasgressione. Io non so se dovrei. Comincia tu. Ok. Mesi fa Sean e io abbiamo invitato un assistente del suo corso per una cena e un rapporto a tre. E Sean non era geloso di lui? Ho detto che era un lui? Grandioso, sorella. Grandioso. Stai bene? Sì. Senti, non voglio sconvolgerti. C'è nessuno? Non sono sconvolta. Forse lo sei tu, ma io non ho problemi. Sono per il SFR.